Sì, sì, sì! Così sì, adesso vuole guardare un uomo, perché si allontana... ...non ci viene... ...andiamo... ...andiamo... ...neal contro neal, viste come di bici... ...andiamo a cercare di... ...ecco un altro... ...mamma mia... ...ecco lì, un altro bistocco... ...predemi... ...lo che è? Ragazzi, si legge la rollata di Ryusei, un Fsmash, morte a 70, quant'era? Si era più una 70, bello incredibile. Oddio! Molto facilmente, ancora acquista, metemi in realtà, mago. Oddio, backthrow, backthrow. Oddio, change bike, no, la salvò. Ancora! BABABABIA! Blades, che cosa fa, Blades? Che cosa fa, Blades? Oh, Blades, si prende la spagnola, la vado. Ragazzi, salta giusto, 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 il laser. Eh, si prende il gyro, ma la riesce a pulire la prima volta. Cerca la meternia sulla, non lo devi fare. Cerca l'head, gas, red. Oh, ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, il quinto è il trailer. Don't shit, get me, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Good school in today. Ragazzi. Far rubare una stocca a qualcuno. Esatto. Quindi, sarà in scudi. Oh, ragazzi. È stato un stanco, ora lì? Se lo tiene lì? Perfetto. Andiamo al prattore. Come il trailer. E, ho provo il limite! Come mai vista da nessuno? E, mostrano due contro uno. Oh! Cosa ha fatto? La portola della branca? Andiamo a titolo. E, sono freddo. E, sono freddo. E non e se non sto bene a... Ma che è uno contro uno, sarà meglio che... ...e, due contro due, la per... non uccide ancora, prova l'up smash, la c'è l'up smash, oh l'up B, eh, Max fa un comeback incredibile e porta l'up,